la fonte di trevi in roma no la fonte di trovi in roma non comprende si ma tu ti chiede la fonte di trovi a trevi a fontana di roma a fontana di trevi a fontana di trevi a trevi che ora tieni signori mezzagiorno 10 che ora tieni ora mezzagiorno 10 questo è la fonte di roma signore ma quanto agno tieni ma c'è o meno di antiguo dati 500 500 anni 50 anni ma a chi che succedio storicamente non lo so questa è la fonte di milano signore questa è la fonte di milano dico ho capito ho capito ho capito eh è la fonte di milano dico anche tu roma la fonte di milano ho capito ho capito ho capito ma è ma cio meno è una 4 e quadra e già puoi llegare al centro per essere una compra turistico eh non ho capito no 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 non ho capito che non ho capito del capito non ho capito la caglia la via è capito no no via via è capito no 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 questo è la fonte di trope eh trope ma è che su che è successo storico qui non lo so non so da qua o sei italiano ma sei molto che vive in roma sono brasiliano eh no da qui al centro e quante quadri hai ma cio meno non so eh non so ma cio meno cinque quadri c'è quel centro signori non so eh